Cronaca a droga, arrestate due persone che rifornivano affezionati clienti della costa teramana. Teramo, carabinieri con cane antidroga al liceo Milli, segnalato studente con piccola quantità di hashish. Castellalto, la maggioranza risponde all'opposizione, a Castelbasso investiti oltre 670 mila euro. Teramo, premio di Venanzo, in forse la sala polifunzionale, si allestirà un tendone in piazza Martiri della Libertà. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Super J. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Termo e Giulianova, al termine di una indagine complessa nel corso della quale era già stato rinvenuto all'interno di un'auto ben mezzo chilo di cocaina, hanno arrestato due persone che rifornivano affezionati clienti della costa teramana. Sentiamo. Arrestate due persone che rifornivano di droga alcuni affezionati clienti della costa teramana, nell'operazione condotta per alcuni mesi dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo, insieme ai colleghi della compagnia di Giulianova, è coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo. Un'indagine complessa, dato che le cessioni di droga erano mirate a persone conosciute e non a clienti occasionali. Nel mese di giugno i carabinieri, intercettando un'auto che non si fermava all'alte e con i due a bordo di leguatisi in campagna, rinvenivano all'interno della macchina ben mezzo chilo di cocaina in una busta termosaldata. Le indagini permettevano successivamente l'identificazione dei due soggetti. Nello stesso periodo, a Roseto, i carabinieri controllavano un edificio rurale, indicato come uno dei posti dove avveniva la cessione di droga. All'atto del controllo, un uomo usciva precipitosamente da rudere, cercava di dileguarsi. Raggiunto dai militari, veniva trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 5 grammi di eroina, che cercava di nascondere tra la vegetazione. L'uomo veniva tratto in arresto. E sulla base di tutte le attività investigative, la Procura della Repubblica di Teramo ha chiesto sul conto dei due, ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono stati arrestati ieri. A seguito delle perquisizioni delle loro abitazioni, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanza per il taglio e il confezionamento di droga e 7.500 euro di denaro contante. I due sono stati associati al carcere di Castrogno di Teramo. Ancora la cronaca perché questa mattina c'è stata un po' di agitazione al liceo Milli di Teramo. Infatti questa mattina a Teramo, su richiesta del dirigente scolastico del liceo statale Giannina Milli, i carabinieri con il cane gipsi del nucleo cinofili carabinieri di Chieti hanno ispezionato l'istituto. Nello zaino riconducibile ad uno studente è stata rinvenuta una piccola quantità di hashish e pertanto il giovane è stato segnalato alla prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti. Nuovo incidente sul lavoro nel Teramano. Poco prima delle 14 di oggi, nell'azienda agricola Collebello a Tortoreto, un operaio di Torricella Sicura di 33 anni è rimasto seriamente ferito mentre inseriva i grappoli d'uva nella macchina di spremitura. Il macchinario usato nella vendemmia gli ha risucchiato mano e braccio. L'operaio è stato soccorso dal 118 e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. I sanitari dell'ospedale Mazzini di Teramo dovranno sottoporlo ad un intervento chirurgico e per lui si profila una prognosi superiore ai 30 giorni. Sul posto sia i carabinieri sia il personale della ASL di Teramo per tutti gli atti di competenza. E ancora, questa sera poco prima delle 18, poco fa, una squadra del comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla Teramo Mare a seguito di un violento scontro tra due auto e un camion frigorifero e le foto fanno riferimento all'incidente. L'incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione mare. I mezzi sono un camion Iveco condotto da un 56enne, una Fiat Panda condotta da una 43enne e una Opel Mocca il cui conducente ha riportato ferite e contusioni che ne hanno reso necessario il trasporto con un'ambulanza del 118 all'ospedale Mazzini. A seguito del violento impatto l'Operl, come vedete, si è ribaltata sul lato del passeggero. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Panda con le attrezzature in dotazione per aprire il portellone e liberare il conducente rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo a causa dell'impossibilità di aprire le portiere. Il conducente della Panda e l'autista del camion sono comunque usciti illesi dall'incidente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Giulianova per regolare il traffico. Il tracciato stradale è rimasto bloccato al traffico per tutta la durata dell'intervento e dei rilievi e si è formata una lunga fila di veicoli. Cambiamo argomento. Protestano gli studenti universitari dell'Udu di Teramo. Sotto i riflettori l'aumento dei costi del trasporto pubblico, il ritardo delle borse di studio e la residenza universitaria teramana non ancora realizzata. Vediamo. Il futuro è alla fermata del bus. E' questo lo slogan lanciato dall'Udu di Teramo per accendere i riflettori con una manifestazione regionale sui rincari del trasporto pubblico per gli studenti universitari. Tariffe che risultano essere troppo onerose per gli studenti e per le loro famiglie, già alle prese con altri rincari come quelli degli affitti. Tariffe che sono aumentate dal primo luglio di quest'anno e che non prevedono agevolazioni convenienti per gli universitari. Quest'estate purtroppo ci sono stati approvati degli aumenti tariffari in regione per tutto il trasporto pubblico locale e in precedenza, sempre durante il 2024, c'è stato un accordo sull'adeguamento all'inflazione per le tariffe dei treni, l'accordo con Trenitalia, il che significa che da gennaio in poi ci saranno degli aumenti percentuali che seguono aumenti che già ci sono stati negli scorsi mesi. Noi abbiamo chiesto un'audizione in commissione trasporti al Consiglio regionale insieme ad altre realtà associative dell'Abruzzo, sperando che possano ascoltarci e possano ridurre innanzitutto gli aumenti che ci sono stati e azzerarli. E soprattutto vogliamo cercare di concordare un chilometraggio per la provincia di Teramo che sia sufficiente e che poi ci permetta anche di costruire degli abbonamenti agevolati per gli studenti. Una manifestazione di scala regionale che apre ad una manifestazione più ampia del 15 novembre in occasione della giornata dello studente. Noi non abbiamo ancora certezze sulla residenza universitaria pubblica qui giù in centro a Teramo. I ritardi sulle borse di studio purtroppo sono ormai consolidati e questi mettono in ginocchio gran parte della comunità studentesca. Noi abbiamo tanti esempi di persone, studenti, studentesse che sono costretti a lavorare spesso con contratti in nero, non registrati, per potersi mantenere proprio durante l'anno perché appunto capita che le borse di studio arrivino ad anno accademico quasi terminato. Non si placa la polemica sull'allungamento del tracciato della pista dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara dopo che il Presidente della Regione Marsilio ha annunciato la conclusione dei lavori per gennaio prossimo dando del cretino a chi critica il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso che per primo lo ha trascinato nella polemica sui ritardi con una nota sarcastica ha definito Marsilio un tenutario della Regione accusandolo di gaffe. Annuncia, ha detto D'Alfonso, lavori annunciati già a febbraio scorso finanziati nel 2016 dalla mia giunta e iniziati dopo cinque anni e mezzo di governo del centrodestra se l'è presa comoda, ha detto D'Alfonso. Tutti assolti per la tragedia del dicembre del 2020 a Casalbordino nella fabbrica Sabino Esplodenti Sabino quel pomeriggio persero la vita tre dipendenti e poi altri tre operai morirono il 13 settembre dell'anno scorso il servizio. Tutti assolti gli imputati nel processo sull'esplosione del 21 dicembre 2020 alla esplodenti Sabino di Casalbordino a Chieti che provocò la morte di tre dipendenti Carlo Spinelli di 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe di 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo di 46 anni di Guilmi tutti assolti perché il fatto non sussiste e quanto ha deciso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Vasto l'accusa principale per gli imputati era di cooperazione colposa in omicidio colposo a finire a processo celebrato tramite rito abbreviato sono stati il legale rappresentante e presidente del CDA della esplodenti Sabino S.P.A. quattro consiglieri di amministrazione il direttore dello stabilimento il responsabile del servizio protezione e prevenzione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il caporeparto e poi la società in persona del legale rappresentante la procura aveva chiesto condanne dai 4 ai 6 anni e una multa di 287 mila euro per la società per 5 degli stessi imputati assolti ieri sera va avanti invece l'inchiesta per un'altra esplosione avvenuta sempre nella esplodenti Sabino azienda che cura, recupera e tratta polvere epirica derivata da bonifiche di ordini bellici a perdere la vita il 13 settembre di un anno fa furono gli operai Gianluca De Santis, Giudo Romano e Ferdinando Dinella per quella tragedia sono 7 di indagati per omicidio colposo aggravato e disastro numero che sale a 8 considerando anche la società come persona giuridica e cambiamo di nuovo argomento la maggioranza del comune di Castellalto risponde alle critiche mosse dall'opposizione a Castelbasso negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 670 mila euro in opere dice l'assessore Monticelli che replica anche sui disagi provocati dal trasporto scolastico Marco Monticelli assessore del comune di Castellalto è replica all'opposizione che ha criticato intanto l'immobilismo per quanto riguarda Castelbasso e poi i problemi che riguardano mensa scolastica e trasporto scolastico Assessore Castelbasso Guarda io non direi immobilismo consiglierei al gruppo di minoranza del comune di Castellalto di fare un'attenta lettura degli atti da dove si evince che negli ultimi 15 anni il comune di Castellalto ha investito oltre 670 mila euro per tutte le opere inerenti pavimentazione e quant'altro quindi c'è un'attenzione verso quel borgo come ci deve essere verso tutte le altre frazioni e luoghi del comune di Castellalto quindi dire che noi abbiamo abbandonato quel borgo non rende un servizio utile ai cittadini quindi prima di parlare dovremmo avere contezze di quelle che sono le azioni che si fanno quindi siamo ben tranquilli, stiamo lavorando, stiamo facendo ancora altro, abbiamo altri finanziamenti in corso sulla questione mensa e trasporto scolastico diciamo che la mensa è in fase di realizzazione quindi nell'arco di qualche mese avremo la mensa completa sul trasporto scolastico abbiamo tentato come amministrazione nell'ottica di rendere efficiente il nostro comune cercando di reperire risorse e risparmiare abbiamo fatto un tentativo per ottimizzare il servizio questa ottimizzazione abbiamo capito che non è del tutto possibile quindi adesso stiamo rivedendo il trasporto per renderlo funzionale come era prima perché i genitori lamentavano che addirittura in un determinato orario non c'è stato proprio il trasporto scolastico per riportare i bimbi a casa in un giorno allora questa è stata una difficoltà che si è verificata in un giorno dove abbiamo avuto l'autista che aveva problemi di salute e quindi all'ultimo momento non è potuto intervenire fare polemica su questo, io mi rendo conto del disagio però fare polemica su questo francamente mi rimane anche difficile commentarlo perché non è stata una cosa voluta ma è verificatasi appunto per una questione di salute tutto qua il comune di Notaresco entra ufficialmente all'interno dell'Unione dei Comuni Terre del Sole salgono ora sei territori che potranno usufruire dei servizi per quanto riguarda l'ambito sociale e il servizio il comune di Notaresco entra ufficialmente all'interno dell'Unione dei Comuni Terre del Sole sono sei ora i comuni che potranno usufruire di alcuni servizi fondamentali per la cittadinanza sulle tematiche sociali e senza dimenticare l'utilizzo della centrale unica di committenza dopo ben dieci anni il comune di Notaresco è lieto di rientrare nell'Unione Terre del Sole ora il presidente, il sindaco e il mio collega Mario Nunes mancava solo il comune di Notaresco e l'altro ieri abbiamo firmato l'ingresso nell'Unione tutti i servizi in convenzione sono tantissimi e tanti entrando nell'Unione sono rendicontati e spesi dal governo quindi sono somme che rientrano in tutta la comunità europea circa dieci anni fa abbiamo avuto degli screzzi con la vecchia Unione c'era una problematica con la regione Abruzzo e quindi non eravamo all'interno dell'Unione ma eravamo in convenzione però tutti i servizi dell'intera comunità noi voglio ricordare che l'Unione è un'Unione di sei comuni il comune di Rosario di Abruzzi, Morrodoro, Notaresco, Bellante, Mociano e Giulianova quindi eravamo in convenzione però non potevamo rendicontare le somme allo Stato e invece adesso riusciamo a rendicontarle e a rincamerare alcune somme si completa un percorso che aveva questa naturale conclusione ma soprattutto un naturale inizio è proprio vero in questi casi si può dire l'Unione fa la forza Unione che era nata a Monca a causa di divisioni politiche negli anni che vanno dal 2018 al 2021 e con comuni che decidevano evidentemente ranneggiando il proprio territorio di non entrare abbiamo lavorato anche per creare questa unità con l'ultimo comune che era rimasto escluso volontariamente da questa Unione che Notaresco il sindaco Tonini Gianvittorio ha percepito l'importanza di questa azione e ovviamente oggi come Unione siamo di certo più forti quasi 70, oltre 75 mila abitanti rappresentati da questi sei comuni della zona costiera e collinare tra Vomano e Tordino il cosiddetto ex ambito Vomano-Tordino insomma è importante, si potrà lavorare sull'ordinario ma anche con uno sguardo verso lo straordinario Sabato e domenica visite serali e visite guidate al Museo archeologico nazionale di Campli in occasione delle giornate europee del patrimonio prevista anche l'apertura straordinaria dei depositi del museo contenenti i ritrovamenti della necropoli di Campovalano vediamo il servizio Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP le Giornate Europee del Patrimonio una fra le più estese partecipate manifestazioni culturali d'Europa nelle due giornate saranno organizzate visite guidate aperture straordinarie e iniziative nei musei e nei luoghi della cultura statali e non il tema di quest'anno scelto dal Consiglio d'Europa è patrimonio in cammino anche al Museo archeologico nazionale di Campli due giornate di eventi straordinari aperti a tutti anche quest'anno il Museo archeologico di Campli partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio che è un evento promosso dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea a cui aderiscono tutti i musei statali europei in particolare sabato 28 avremo un'apertura straordinaria dalle 20 alle 23 al prezzo simbolico di 1 euro mentre domenica 29 alle 17 ci sarà una visita guidata incentrata sul tema delle giornate ovvero il patrimonio in cammino dove ci si concentrerà sul far notare come Campovalano la comunità di Campovalano non fosse una comunità isolata ma inserita all'interno di una serie di reti di scambi commerciali e culturali che abbracciavano tutto il bacino del Mediterraneo e inoltre avremo anche l'apertura straordinaria dei nostri depositi dove sono conservati tutti i materiali che provengono dagli scavi della necropoli così da far vedere come un oggetto archeologico dallo scavo attraverso poi opera di restauro, studio e catalogazione finisce in un museo per essere poi fruito ai visitatori la visita è per tutti, famiglie, piccoli, grandi e studiosi è gratuita, rivolta a chiunque le serate conclusive del premio Gianni di Venanzo in programma dal 10 al 12 ottobre a Teramo saranno con ogni probabilità ospitate in Piazza Martiri della Libertà l'associazione Teramo Nostra che organizza l'evento da 29 anni allestirà una tensostruttura visto che la sala polifunzionale della provincia ad oggi non è ancora disponibile vediamo le tre serate del premio di Venanzo organizzato da Teramo Nostra di Piero Chiarini con ogni probabilità si terranno in Piazza Martiri della Libertà ad oggi gli organizzatori non hanno ancora ottenuto la via libera sull'uso della sala polifunzionale della provincia la cui competenze della regione ma anche il certificato antincendio a due settimane dall'evento in programma dal 10 al 12 ottobre il problema non è stato risolto così Chiarini è stato costretto ad approntare un piano B l'ipotesi è quella di allestire una tensostruttura in Piazza Martiri per ospitare i vincitori e il pubblico nel frattempo Teramo Nostra non è rimasta a guardare io ho fatto interessare anche i nostri consiglieri regionali di attivarsi ma come stanno le cose non vedo una soluzione perché non la vogliono avere perché dopo che sono stati fatti tutte le migliori cercano sempre nuove vanno trovando ancora nuove problematiche è diventato una cosa incangrenita voi pensate di organizzare adesso un tendone comunque Piazza Martiri? sì, per forza perché non abbiamo saltato col Covid non vogliamo saltare nemmeno quest'anno però è una cosa deprimente perché chi dovrebbe veramente attivarsi per far sì che queste cose vadano verso giù non lo fa e quindi noi io non voglio trovare colpevole però sono tutti colpevoli perché chi sta lì per trovare soluzioni non l'ha voluto cercare non so per quale motivi quant'amarezza c'è? tantissimo perché è una mancanza di rispetto sia verso il premio che è 29 anni che lavora e che ha portato veramente Teramo in tutto il mondo e tanta amarezza anche perché tutto il lavoro che uno fa tutto l'impegno che ci mette dopo in ultimo per i capricci di qualcuno tu non puoi farlo svolgere come vuoi domenica prossima alle 9.30 al parco fluviale di Teramo prenderà il via la Fit Walking for Aile la camminata solidale non competitiva in favore della sezione teramana dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomie e mieloma le iscrizioni, 10 euro, sono aperte a tutti e possono essere fatte anche prima della partenza ai primi 300 iscritti sarà consegnato il kit ufficiale della Fit Walking i bambini potranno partecipare gratuitamente se accompagnati da adulti senza ricevere il kit iscriversi è un modo per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti e ai loro familiari e per supportare le attività dell'Aile Teramo Graziano Petrini per informazione è possibile contattare il numero 347 83 254 34 bene questa è l'ultima notizia adesso vi lascio alle previsioni meteo come sempre realizzate da Marco Di Loreto e poi al Tg Sport condotto questa sera da Stefano Vecelio grazie e buona serata arrivederci